però abbiamo le informazioni che vogliamo prossima sottozona prese le munizioni sono pronto sto meglio mi sento molto meglio capito forza, tutti qui mi dispiace, davvero sequenza di transizione transizione alla sottozona successiva grazie c'è del personale rimasto bloccato in questa sottozona non è riuscito a raggiungere la camera stagna dobbiamo estrarlo sto ricaricando ciao ciao Ricarico, completami. Ricarico, completami. Ricarico. Ecco il VIP, distraiamo la rifiuta. La risorsa alla capsula di estrazione. La risorsa alla capsula di estrazione. Ora si riunirà la sua famiglia, o se vuesterni fiare. Ricarico. Stiamo raccogliendo i trutti dei nostri esporti. Non fermiamoci. Ricarico. Possiamo procedere alla sottozona successiva. Qui non c'è altro. Ho preso munizioni di scuola. In quella direzione. Ricevuto. Sequenza camera stagna avviata. A tutto il personale. Convergere subito lì. Tutti quanti lì. Sequenza camera stagna in corso. Convergere subito verso la camera stagna. Dentro. Da quella parte. Convererai in funzione il dispositivo di stasi. Sequenza di transizione. Storica ricarica. Transizione alla sottozona successiva. Il nodo nutritivo contribuisce alla ricrescita dei nidi, ma la schiuma di stasi impedisce il processo. Ricarico. 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 Non è neutralizzato. Ricarico. Ricarico. Tutti all'obiettivo. Ricarico. Riempiamo il nodo nutritivo di siuma, così non farà risuscitare i nidi. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Ricarica. 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 Non vogliamo. Ricarica. 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 Sì. Ricarica. 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 Missione approvata. Missione approvata. Il mio primo contatto con E.T. avrei dovuto farlo fuori. Ho costruito l'HB7 per salvare vite. Mai avrei pensato. Per me queste missioni sono incontri ravvicinati del sesto tipo. Rilevatore radar a microonde pronto all'uso. Possiamo fornire agli scienziati campioni freschi e non modificati. Bisogna ucciderli con la lama React. Eliminiamo il mio avversaglio. Uccidiamo il mio avversaglio. Ricarico. Ricarico. La secco. Usiamo un dispositivo da ricognizione per localizzare l'obiettivo. Il sensore cardiaco sta scansionando. Lì c'è il bersaglio. Va eliminato con la lama React. Ricarico. 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 Sì, sì. Grazie a tutti 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 No Ricarico No 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 L'albero archeolo tratterrà con ancora ricaricando! Ricarico! Ricarico! Ci siamo! Bisogna sparare ai punti d'ancoraggio quando si aprono! L'albero archeo sta resistendo! Distruggiamo i punti d'ancoraggio e le cellule archee! A secco! È la nostra occasione! Tiriamo fuori la gente! Ora l'albero archeo è più debole! Ci siamo quasi! Recupero l'albero! Il ferito sarà in salvo solo una volta inserito nella capsula di estrazione! Ricarico! Il ferito va adagiato nella capsula di estrazione! Agente al sicuro! I medici riapri! Non so dire se abbiamo dato il massimo o se era una missione troppo facile! È un po' di più! Ricarico! È un po' di più! È un po' di più! È un po' di più! Il parassita sta modificando l'aspetto della città, ma sono sicura che troveremo un significato in tutto questo caos. Sembra essere importante registrare questi video, dovesse succedermi qualcosa. Allora, il parassita è emerso dall'altra parte del paese. Non ha veramente senso. Capisco le macchine, loro hanno un senso, ma questa cosa... Wow. Ascoltate, contenere questo parassita può essere la missione più importante della mia vita. Ma vorrei solo che... Pare che siamo arrivati.